Preghiera della Sera Ti ringrazio, Signore, per questa giornata e per tutte le grazie che mi hai concesso. Perdonami per la mia mancanza di fede, così come per tutte le occasioni di servirti che mi sono lasciato sfuggire. Questa sera ti prego in particolare per tutti quelli che sono perseguitati per causa Tua. Ti chiedo di renderli forti e di consolarli per mezzo dello Spirito Santo. Amen Grazie